allora oggi stiamo provando a fare dei biscotti alle mandorle e alle noci quindi abbiamo preso queste sono le dosi che ho adoperato io tre albumi d'uovo una fialetta di mandorla di assenza di mandorla poi 200 grammi di zucchero a vela ho mescolato il tutto adesso lo abbiamo messo qui in questa ciotola lo mettiamo nel frigo e lo facciamo stare per un paio d'ore tre ore poi faremo delle palline perché se li faccio adesso è troppo appiccicoso umido quindi li mettiamo in frigo così lo possiamo lavorare meglio e faremo dei biscottini poi li inforneremo e vediamo come vengono questa è una variante dei biscotti alle mandorle io ho aggiunto soltanto perché avevo poco mandorle poche mandorle e ho messo anche le noci quindi mandorle e noci vediamo come vengono ed ecco abbiamo preparato una teglia dei biscotti alle mandorle e noci abbiamo messo anche le noci perché mandorle ce ne erano poche adesso facciamo la prova e vediamo quanto come vengono allora adesso le inforniamo il forno a 180 gradi per 20 minuti dovrebbe bastare allora gli ingredienti per fare queste questi biscotti sono 200 grammi di di noci tritate 200 grammi di mandorle una fialetta di essenza di mandorla poi 200 grammi di zucchero a vela e basta 33 albumi di uovo ecco tre albumi d'uovo e poi si mescola il tutto si mescola bene si impasta bene si mette nel frigo per tre quattro ore poi si formano delle palline si mettono delle palline si schiacciano un po si mette una ciliegina sopra e si infornano a 180 gradi per 20 minuti ecco il risultato lo abbiamo assaggiati buonissimi anche con la variante delle noci il gusto è proprio proprio buono ed ecco i nostri biscotti che l'abbiamo sfornati sono venuti buoni dai noi abbiamo già assaggiato quindi sono dei biscotti con mandorle e noci con una ciliegina sopra dello zucchero sopra e 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